Come reagiscono i segni zodiacali ai tre addimenti? Ti devo parlare. Dimmi. Ti ho tradita. Questi cazzi! Uh, un bar, vado a farmi uno spritz. Ti devo parlare. Dimmi. Ti ho tradito. Morirò da solo. Ma no, dai. E cosa c'è dopo la morte? Ma non lo so, ma... Ma che fai? Ne parlo con Marchetto. Ma della vita dopo la morte o del fatto che ti ho tradita? Potrebbe esserci una correlazione. Ah. Ti devo parlare. Dimmi. Ti ho tradita. Dopo tutto quello che ho fatto per te. Per la tua famiglia. Per il tuo cane. Ma io non ho un cane. Sì, alle elementari sì. Ricchi. Nel 92 sono passata sotto casa tua e gli ho dato la mia merendina. Voglio sapere con chi. E soprattutto chi già sapeva. Parenti, colleghi, amici. Anzi, ex amici. Fuori i nomi. Devo dirti una cosa. Ti ho tradito. Ah, questo è un problema. Perché adesso devo cambiare casa, devo dire addio ai tuoi amici, ai tuoi parenti. Ma se lavori per mio zio, come fai? Eh, infatti pure lavoro devo cambiare, anche città. Forse paese proprio. Ma vabbè, adesso non esagerare per ora. Ma te che cazzo sei?